Avevano fatto saltare in aria un bancomat di grumo a Appula, senza però riuscire ad impossessarsi del bottino. La potente carica esplosiva utilizzata aveva infatti fatto sì che il denaro contante si bruciasse. In fuga da Grumo a Minervino, a bordo di un'auto rubata, i malviventi sono stati poi intercettati e arrestati dai carabinieri. In manette sono finiti un 26enne e un 37enne, entrambi andriesi, e un 63enne di Minervino Murge. Sono accusati di tentato furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. I tre, dopo aver tentato di mettere a segno il colpo al bancomat, mediante la deflagrazione di tre ordini di fattura artigianale, si erano subito dati alla fuga, a bordo di una BMW rubata qualche settimana prima nel Foggiano. I carabinieri, però, sulle tracce dei fuggitivi, sono riusciti ad individuare l'autosospetta, proprio mentre stava sfrecciando in una delle vie di campagna di Minervino Murge, più precisamente in località Campanelli. I militari hanno quindi bloccato i tre malviventi nel momento in cui stavano risalendo su di un'altra autovettura, dopo essere riusciti a nascondere la BMW rubata tra le balle di Fieno, all'interno della masseria di proprietà del 63enne arrestato. Le indagini, grazie anche alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di appurare il diretto coinvolgimento dei tre nell'assalto al bancomat di Grumo Appula. La successiva perquisizione della vasta area di campagna, eseguita con il supporto delle unità cinofile per la ricerca delle armi e dell'eventuale materiale esplosivo, ha consentito di sottoporre a sequestro due bombole contenenti acetilene, 20 cartucce calibro 12, una lastra in acciaio applicata nel cofano posteriore della BMW con targhe rubate e telaio contraffatto e infine vari attrezzi da scasso.